Musica Seconda edizione di Ora Tg, apriamo oggi con la pagina economica parlando della Lukoil, lo stabilimento Isab di Priolo, dal prossimo 5 dicembre via le sanzioni che non consentiranno anche all'Italia l'attracco di navi con petrolio russo di cui la Lukoil appunto si alimenta. Questo ovviamente potrebbe comportare gravissimi disagi, così come abbiamo detto nel corso dei mesi, anche con il licenziamento di migliaia di persone. Per evitare tutto ciò, ieri si è svolta una grossa manifestazione a Siracusa, contemporaneamente a Roma un incontro del ministro Urso con la regione siciliana, le rappresentanze sindacali, è stato presentato un percorso con quattro ipotesi differenti per salvare lo stabilimento priolese. Ogni giorno che passa è prezioso, il prossimo 5 dicembre scatterà l'embargo europeo sul petrolio russo. Da quel momento la Lukoil di Priolo Gargallo, seconda raffineria d'Italia, potrebbe rischiare la chiusura. La vicenda è delicatissima, anche perché più di 10.000 operai del polo petrolchimico siracusano potrebbero perdere il lavoro. Se non si trova una soluzione per tempo, gli effetti delle sanzioni saranno devastanti, anche perché la stragrande maggioranza del greggio utilizzato nell'impianto, che copre il 20% della produzione italiana, arriva dalla Russia. L'eventuale stop, senza alternative, condannerebbe lo stabilimento. Il governo nazionale, insieme a quello regionale, sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione alla vicenda. Ieri, al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, si è svolto un incontro tra il ministro Adolfo Urso e il governatore Renato Schifani. Il nodo riguarda le linee di credito delle banche. Per scongiurare la chiusura, la raffineria dovrebbe acquistare petrolio grezzo da altri paesi. Gli istituti di credito, però, hanno da mesi chiuso i rubinetti. Grande assente nel mondo bancario. Opportuna iniziativa del ministro di interloquire con ABBI, con l'intera associazione bancaria italiana. È importante la disponibilità del ministro a tracciare un percorso che possa aumentare la percentuale di garanzia della sacera, che attualmente è il 70%, aumentarlo. Ma, chiaramente, se il mondo bancario non risponderà nemmeno per quel residuo che dovrebbe garantire, si dovranno trovare altre strade, altri percorsi. I percorsi sono quelli che conoscete. La sinergia tra la regione siciliana e il governo, il ministro Urso in particolare, è massima tra il sottoscritto e lui. Anche l'assessorato alle attività produttive del mio governo segue attentamente la vicenda, anche per il riconoscimento dell'area di crisi del siracusano. Da una parte, ieri il vertice in ministero, dall'altra la mobilitazione di lavoratori e sindacati che chiedono una soluzione all'emergenza del polo petrolchimico. Altra strada percorribile, emersa durante l'incontro a Roma, potrebbe essere quella di nazionalizzare la raffineria, così da garantire i livelli occupazionali. Intanto, la regione ha chiesto al governo il riconoscimento dell'area di crisi industriale del polo di Siracusa. Un importante segnale di sinergia tra il governo nazionale e il governo regionale. Abbiamo chiesto tutela per i lavoratori, per i dipendenti, parliamo di migliaia di lavoratori che vanno tutelati tra indotto diretto ed indiretto. E prima di andare via abbiamo chiesto anche il riconoscimento dell'area di crisi industriale del polo di Siracusa, che è un riconoscimento importante per poter portare lì investimenti e tutelare le aziende. Disponibilità da parte del Ministro Urso, quindi stiamo portando avanti tutti quegli atti propedeutici al riconoscimento e alla soluzione. Sicurezza e committenza, queste le due parole magiche che però non fanno dormire sonni tranquilli agli autotrasportatori, anche siciliani evidentemente. Dietro l'angolo la protesta si chiedono delle interlocuzioni con il governo. Antichi e non più rinviabili i problemi che la categoria dei camionisti, anzi degli autotrasportatori, continua a segnalare in vano tanti gli incontri, tantissime le promesse, zero risultati. Eppure sono gravi gli episodi che riguardano proprio i mezzi pesanti in circolazione sulle strade italiane e siciliane e che purtroppo spesso sono anche protagonisti di fatti di cronaca, che andando ad analizzare le statistiche sono sempre in aumento. Incidenti anche gravissimi, furti improvvisi ed imprevisti, diatribe con la committenza ormai marcate e che fanno segnare il passo alla crescita di un settore che invece è trainante per l'economia del paese, basti pensare. Al volume di merci che costantemente, quotidianamente, 24 ore al giorno, si muove su ruote gommate. Sul tema sicurezza, la Lega Autisti e Autotrasportatori Indipendenti Siciliani non fa sconti a nessuno. Vogliamo attenzionare il grave problema della sinistrosità che è fortemente in aumento e soprattutto per quello che riguarda i mezzi pesanti. Abbiamo un problema nazionale e soprattutto meridionale e siciliano, infrastrutturale notevole che va assolutamente attenzionato e che non può essere disatteso da istituzioni e governo centrale. I fatti delle ultime settimane parlano di incidenti gravissimi che riguardano i mezzi pesanti con anche esiti mortali che non possono certamente rimanere nei cassetti della politica. La Lega Autisti e Autotrasportatori Indipendenti Siciliani è intenzionata ad avviare un dialogo con le istituzioni affinché questi sinistri, che ovviamente sono direttamente proporzionali alla carenza infrastrutturale, all'inadeguatezza infrastrutturale, ma anche alle condizioni di lavoro in cui questi autotrasportatori e autisti sono costretti ormai da diversi anni a lavorare. In infrazione rispetto al pacchetto mobilità europeo, in infrazione rispetto alle comuni normative e norme nazionali di sicurezza e di incolumità pubblica. Poi ci sono i rapporti con la committenza e con tutto quello che significa filiera di autotrasporto su gomma. L'autista dovrebbe rispettare le ore di guida, le mansioni di lavoro, come tutti gli operai, perché noi siamo degli operai come se fossimo in fabbrica. Voglio sfidare chiunque, dopo le loro, le proprie nove ore di mansione lavorative, a rimanere sul proprio posto di lavoro. Ecco, oggi i giovani non vogliono interfacciarsi in questo mondo perché vengono sottopagati, non vengono tutelati neanche a livello di sicurezza, anzi si chiede, si pretende tantissimo da parte delle aziende. Dipendiamo dalle committenze. La nostra materia prima non è più valorizzata, non riusciamo noi a snellire un fluido di logistica o a comandare il prezzo della nostra materia prima perché siamo stati globalizzati. Abbiamo una concorrenza sleale, soprattutto con il cabotaggio. Il cabotaggio sarebbe mezzi pesanti provenienti dall'est Europa, Slovenia, Romania, a più non bosso, vengono a fare un trasporto misero in Italia, svalorizzando il nostro sacrificio, il nostro lavoro e le committenze ne approfittano lasciandoci per ore ed ore in attesa di carico. Cronaca, andiamo subito ad Acireale. Il commissariato di pubblica sicurezza ha controllato un'autovettura smart con a bordo un uomo di 44 anni, pluri pregiudicato. La perquisizione ha permesso il rinvenimento di due dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, quindi poi gli agenti si sono spostati nell'abitazione dell'uomo dove sono state ritrovate altre dosi della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione. L'uomo è stato arrestato dunque in flagranza. In tema di legalità e ferro opposizione a racket delle estorsioni oggi si è tenuto un incontro a Lingua Gloss con protagonista l'imprenditore Mario Caniglia. Un manifesto per fermare la guerra è l'iniziativa palesata da Gianni Alemanno. Questo pomeriggio nel Palazzo della Cultura di Catania, dopo le performance in altre importanti città italiane come Roma, Genova, Napoli, Bologna, Milano e Torino. Il manifesto parte dalla premessa che l'Italia non può permettersi né la guerra in Ucraina né le sanzioni alla Russia che creano danni rimediabili alla nostra economia. Al momento, secondo il manifesto, non esiste nessuna proposta di pace credibile avanzata dall'Italia o da un altro paese europeo. L'auspicio dello stesso Alemanno è che possa avvenire presto un cambio di atteggiamento per l'Italia mettendo in atto una neutralità attiva come scelta realistica ed eticamente condivisibile. Noi sostanzialmente siamo di fronte a una situazione in cui l'economia italiana e più in generale tutta la nostra nazione è esposta in una guerra che rende delle utilità soltanto agli Stati Uniti. Ma né noi né gli altri popoli europei hanno dei vantaggi in questa guerra. Ma non è solo questo. È una guerra che rischia in qualsiasi momento di degenerare. Pensiamo per esempio all'incidente dei missili che sono arrivati in Polonia che avevano subito detto che erano dei missili che venivano dalla Russia. Un episodio di quel genere potrebbe portare sostanzialmente a una situazione in cui da un momento all'altro abbiamo la escalation, la degenerazione a un vero e proprio conflitto nucleare. Quindi sia per il problema complessivo sia per il problema nazionale noi dobbiamo cambiare radicalmente posizione rispetto a questa guerra. Come si esce da questa situazione? Da questa situazione si esce facendo una proposta di pace molto semplice. Uno scambio fra la sospensione dell'invio delle armi e un cessato il fuoco immediato. Se l'Italia, magari portandosi a presto anche gli altri paesi europei, avesse il coraggio di lanciare questa ipotesi, soprattutto adesso che sta arrivando l'inverno, l'inverno russo, l'inverno che blocca tutta l'Europa orientale, ci sarebbe la possibilità di ottenere questo risultato. Certo, poi questo aprirebbe un tavolo di trattative interminabile probabilmente, ma sono meglio trattative interminabili che una guerra interminabile, perché nel caso peggiore andiamo verso il conflitto nucleare, nel caso migliore avremo la distruzione della nostra economia. Tutte le previsioni economiche dicono che l'anno prossimo l'Italia è in recessione. Se l'Italia è in recessione, rischia il default del debito pubblico. È una cosa che non ci possiamo permettere. Abbiamo mandato in onda il servizio di questo pomeriggio per la presentazione del manifesto contro la guerra. Avete visto l'intervista già nelle mani. Adesso vediamo insieme invece da lingua glossa il convegno di questa mattina, Noal Racket. Il desiderio di legalità è un tema sempre molto ricorrente nella vita di tutti i giorni, in maniera particolare nel nostro territorio, alla luce di vicende che nello specifico hanno contraddistinto specifici episodi. Stamattina nella sala consigliare della comune di lingua glossa si è tenuto un incontro con alcuni imprenditori dell'Etna Nord Alcantra, riflettori puntati soprattutto su Mario Caniglia, l'imprenditore di Scordia, che resistette alla racket delle estorsioni, finendo poi inevitabilmente sotto la protezione delle forze dell'ordine per tanti anni. Sono cose che nella vita non si possono mai cancellare, restano scolpiti. Perché quello che è successo a me e alla mia famiglia, io auguro che non gli succeda a nessuno. E per non succedere a nessuno bisogna parlarne. Quanto questa sua esperienza può servire a sensibilizzare l'opinione pubblica? Tantissimo, tantissimo. Perché io ho capito una cosa molto semplice e elementare, che io Mario Caniglia da solo non sono nessuno. Ma se io Mario Caniglia accanto a me ci sono altri imprenditori come me che denunciano, diventiamo una forza. E se i mafiosi sono forti, sono forti perché fra di loro si aiutano, si favoriscono. E allora anche noi, fra di noi, dobbiamo essere forti. Perché fra di noi, se si fa un'associazione anti-racket, l'imprenditore che denuncia non deve essere lasciato solo. Si fa riferimento a quello che fu anche un episodio molto grave per questo territorio, risalente al 93, che è un po', se vogliamo, la cartina di tornasole. Sì, perfettamente si fa riferimento alla famiglia di Rita Spartà, a cui uccisero sia il padre che i fratelli. Certo, un territorio difficile si fa riferimento proprio a questa difficoltà che c'è sul territorio. Cosa cambiò quell'episodio? Ma penso che... Forse la percezione anche di un fenomeno complessivo. Penso che abbia scosso fortemente quella che è l'opinione pubblica e la gente. La gente ha incominciato a capire. Tant'è che questi incontri che noi facciamo sul territorio, li facciamo proprio volutamente per cercare di sensibilizzare e coltivare quello che loro hanno seminato prima di noi. Cioè quella che è la cultura della legalità. Con la collaborazione anche delle istituzioni presenti, anche oggi, si è cercato di favorire proprio la costituzione di quello che è il sistema dell'anti-racket. Più di quello che è accaduto non poteva accadere. Evidentemente la coscienza degli imprenditori deve prendere possesso delle proprie azioni e quindi riuscire a reagire è l'unico modo per poter abbattere questo muro. Stamane all'Hotel Nettuno di Catania il primo congresso regionale del PLI con la gradita partecipazione del Presidente dell'Asso, l'onorevole Gaetano Galvagno e dell'onorevole Dario Daedone che hanno ricordato l'importanza storica che ha avuto il PLI nel contesto nazionale augurando che lo stesso ritrovi il suo originario collocamento nello scenario politico. Sono stati eletti rispettivamente l'Avvocato Alessandro Pulvirenti, il segretario regionale e la professoressa Maria Carmela Ligeri, Presidente regionale e poi anche la nuova dirigenza. Voltiamo pagina, primo posto, secondo posto, terzo posto, Alfredo Cavallaro, pizzaiolo di Santa Venerina, brilla al concorso nazionale Pizzadoc promosso dall'Accademia della Pizza, campionato nazionale della pizza. A Pestmo oltre 700 pizzaioli appena qualche giorno fa si sono ritrovati per il campionato nazionale Pizzadoc che ha assegnato diversi trofei nelle diverse specialità. E anche in questo caso i pizzaioli siciliani, anzi etnei, hanno dato prova della qualità della pizza in terra di Sicilia. Tant'è che Alfredo Cavallaro, da Santa Venerina, una eccellenza nel campo della pizza, ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il podio più alto nella pizza veloce, il secondo posto nel concorso pizza larga e il terzo in pizza chef. Come dire, tutti i gradini del podio? Per confermare la preparazione e la qualità di questo ragazzo, 33 anni, che da 20 dunque, da quando aveva appena 13 anni, traffica nel forno, impasta la pasta, prepara gli ingredienti che poi sapientemente diventano pizza gustosa, fragrante. Ci fa crescere, competere con altri colleghi, si imparano tantissime nuove tecniche di lavorazione, si vede più o meno a che livello siamo e come stiamo crescendo e se siamo a livello dei nostri concorrenti. Senti, questa è un'attività professionale per lei. Poi si trova nei concorsi l'ultimo 700 a gareggiare assieme a lei. Insomma, alla fine c'è da dire, ma davvero ha fatto una bella cosa? Sì, sì, non ci speravo di riuscire a portare dei risultati perché erano otto anni che non gareggiavamo più e quindi è stata per noi una grande sorpresa riuscire a classificarci terzi come pizza chef, primi in velocità e secondi in pizza larga. È stata una grande soddisfazione, specialmente con tutti questi concorrenti che venivano da tutto il mondo. Non è il primo premio che Alfredo Cavallaro riceve, anzi, a Sortino, nel 2011 si laureò campione europeo nel concorso Pizza ai Sapori, poi diversi altri premi, con il forno che rimane sempre sua direttrice di vita. Pizza veloce è chi stira nel minor tempo possibile cinque pizze. In questo caso, in questo campionato, erano tre pizze nel minor tempo possibile. Ovviamente non è la classica pasta della pizza che viene utilizzata quando si lavora. è un impasto ovviamente fatto appositamente per mettere in difficoltà i pizzaioli, è un impasto molto duro e molto elastico proprio per rendere la gara più difficile. Da lei è un'eccellenza nel suo campo, ma per Santa Venerina da oggi in poi è un mito? Lo spero, lo spero. Non credo di essere un mito, sono soltanto un pizzaiolo che ci mette il cuore in quello che fa. E dopo la conquista del trofeo, anche la stretta di mano del sindaco. Nelle settimane scorse mi è capitato di portare le mie congratulazioni anche ad altri professionisti, altri artigiani in altri campi. A noi fa sempre piacere quando un'attività o un professionista o un artigiano di Santa Venerina si afferma non solo nel territorio locale, ma anche in campo nazionale. e non solo sulla base dell'impressione positiva dei suoi clienti, ma sulla base, come in questo caso, di un confronto oggettivo e valutato da professionisti del settore. Alfredo ha ottenuto un riconoscimento che gli fa onore e credo che questo onore si estenda anche al territorio in cui operano tanto bene, sia lui direttamente come pizzaiolo, sia Doriana, la sorella, nella gestione dell'attività. Una breve notizia di Cronaca. Agenti del commissariato Borgogna di Catania hanno denunciato un imprenditore di 63 anni per furto di energia elettrica. Avrebbe eluso il pagamento della bolletta collegando al quadro elettrico dell'impianto elettrico la sua villa di lusso con tanto di piscina, sala cinema, un ascensore privato con un palo dell'illuminazione. avrebbe rubato, secondo quanto accertato dalla polizia, circa 81 mila euro di energia elettrica. E adesso parliamo di tumore alla prostata. Il novembre è infatti il mese della prevenzione contro questo genere di neoplasie. Da otto anni, Movember, il movimento composto da rock star sportivi e medici specialisti, promuove la prevenzione contro il tumore alla prostata, ai testicoli, ai malesseri mentali, malattie che hanno subito un'incidenza in aumento da addebitare ad una serie di fattori come la sedentarietà, errata alimentazione e quotidianità frenetica. Ecco perché la prevenzione oggi assume un valore aggiunto ed è sempre più ampio il ventaglio dei disturbi della salute che vengono tenuti sotto stretta osservazione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che incoraggia queste proposte sia in ambito globale che periferico. L'iniziativa che nel corso degli anni si è rafforzata coinvolgendo esponenti noti e meno noti del mondo dello spettacolo, attreti, reggbisti in prevalenza e di altre discipline sportive sensibilizzate rispetto a patologie particolarmente invalidanti e nei casi più gravi mortali contribuisce a ridurre i malesseri che spesso sottovalutiamo ma che possono sfociare in guai peggiori. Movember è un'associazione senza scopo di lucro attiva in 20 paesi nel mondo conta migliaia di associati e promotori impegnati nella sensibilizzazione di vaste fasce della popolazione a sottoporsi ai controlli preventivi. Il cancro alla prostata e testicole come pure le malattie mentali rientrano nella mission degli ideatori del progetto. Ad Aceriale il dottor Riccardo Castro urologo già garante delle persone con disabilità sostiene l'iniziativa mettendo a disposizione la propria professionalità a titolo gratuito. L'invito ai controlli clinici è rivolto a tutti. Assolutamente noi infatti è l'ottavo anno e proponiamo Movember che unisce queste due parole mustache, baffi e novembre che è il mese della prevenzione dei tumori genitori nari. Significa tumori della prostata e tumori dei testicoli che colpiscono due età diverse la prostata dai 50 anni in su i testicoli in un'epoca sicuramente più giovanile. Cosa proponiamo quindi noi? Una prevenzione massima perché con la prevenzione e con la diagnosi precoce questi sono tumori che possono essere certamente sconfitti. Per informazioni e appuntamenti sono disponibili le piattaforme social Movember.com e il sito ufficiale di riferimento per il distretto sanitario del comprensorio Acese inoltre si può contattare il 349 67 77 328. Della parte medica mi occupo io il dottore Maglio Grimaldi per quanto riguarda l'aspetto urologico appunto appannaggio del sottoscritto attraverso i canali Facebook e Instagram e attraverso il numero di telefono che trovate su Google vengo contattato e prendiamo poi in considerazione la problematica che viene proposta o comunque ecco l'appuntamento da fare. Sono visite che vengono effettuate gratuitamente? Assolutamente gratuitamente perché questa è la prevenzione e quindi visite assolutamente gratuita. A Mascali un incontro per divulgare tra i giovani il concetto di rispetto contro ovviamente la violenza sulle donne. Verso il 25 novembre in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Mascali associazionismo scuola e comune insieme per parlare ai giovani contrasto ad ogni forma di odio e di discriminazione di incentivi al rispetto dell'altro il sì alla vita. Cercare di far capire ai ragazzi che il valore più importante l'eredità la migliore eredità che possa lasciare intanto un genitore al figlio è quello del rispetto verso l'altro e coinvolgere tutte le istituzioni nel caso specifico il comune di Mascali la scuola le associazioni di volontariato lavorare in rete per costruire una società migliore fatta di uomini che rispettano l'altro e rispettano tutto e tutti in maniera a braccia aperte senza discriminare nessuno e siamo qua oggi per dire sì al rispetto no alla violenza. Abbiamo voluto invitare le scuole proprio perché la scuola forma il cittadino di domani e quindi credo che la società debba operare tutte insieme e quindi noi anche come comune come quarta commissione consigliare del comune di Mascali abbiamo voluto trasmettere questa giornata di rispetto tolleranza per aiutare anche i ragazzi nella crescita. Una lezione diversa dal solito per i ragazzi del territorio mascalese dove viene sottolineato un punto di vista che non spesso viene attenzionato cioè quello dei familiari dei figli di coloro che effettivamente subiscono violenze quindi una piccola lezione di rispetto sia teorica che pratica con appunto delle importanti presenze all'interno di questo evento. Una giornata dedicata a lezione di rispetto voluta fortemente dalla quarta commissione consigliare oggi è la giornata internazionale della tolleranza abbiamo già nei giorni scorsi c'è stata la giornata internazionale della gentilezza e il 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e proprio contro la violenza di genere parlare di rispetto ai giovani nelle scuole è molto importante perché dobbiamo ognuno di noi deve deve divulgare e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all'amore e proprio l'associazione Insieme per la vita questo lo fa sempre perché si occupa di questo di campagne di sensibilizzazione di informazione e di divulgazione all'amore al rispetto e alla fratellanza torniamo adesso a Santa Venerina ma stavolta per la presentazione di un volume tramandare per ricordare fare rivivere i gusti le emozioni i colori che il tempo tramuta e talvolta disperde ripensare attraverso la scrittura ai fatti che hanno segnato la storia recente della piccola comunità quella di Santa Venerina e il volume presentato ieri è un po' tutto questo non un timone storico ma un contenitore di emozioni che accendono la curiosità di chi non c'era e ravvivono invece il ricordo di chi ha vissuto rimembranze e il volume che Andrea Vecchio imprenditore e scrittore di Santa Venerina già deputato a Parlamento Nazionale ha voluto scrivere per legare il passato al presente perché ad un certo momento nasce rimembranze perché se lei leggesse il prologo di questo libro lo capirebbe c'ho un nipotino piccolo che mi chiede sempre informazioni sugli antenati su come vivevo io da bambino come giocavo da bambino e allora mi è venuta questa curiosità e ho scritto questo libro si dice sempre ricordare per tramandare scrivere i ricordi per tramandare esatto esatto proprio così Santa Venerina è una comunità che nel corso dei decenni è cresciuta ma si è parzialmente modificata diciamo che Santa Venerina è rimasto lo spirito pioneristico dei primi abitanti del primo nucleo fondante del comune di Santa Venerina perché erano dei grandi intraprenditori ed è nata qui a Santa Venerina l'industria alcolica di distillazione più grande d'Italia Santa Venerina è stata per diversi anni la capitale della distillazione del vino in Italia a chi dedichiamo questo libro? a Santa Venerina lo storico Enrico Iachello ovviamente si scrive per tramandare per lasciare appunto ricordo di sé ricordando nel caso di Andrea vecchio mi pare che sia un proseguo del suo impegno civile cioè Andrea ha nello scrivere nella letteratura una prosecuzione della sua attività culturale politica diciamo che lo spinge a mettersi al servizio della comunità anche con i suoi iscritti ecco a proposito di comunità sono tanti i personaggi perché parliamo di personaggi che hanno raccontato la vita delle proprie comunità Santa Venerina potrei dire altri comuni di Sicilia è bello perché appunto si tramanda sono tante è quasi un genere letterario questa memorialistica locale ed è una tradizione positiva noi siamo una terra di grande letteratura e siamo anche una terra di memorialisti sì è vero Calcio riparte la Serie D il Catania atteso domani alla Mezzi è vero proprio Big Match se il Gal Mezzi non dovesse vincere probabilmente il Catania metterebbe davvero quasi la parola fine sul campionato chissà vedremo intanto vediamo insieme il servizio arrivò il giorno tanto atteso del Big Match nel campionato di Serie D Girone I il Catania con 10 punti di vantaggio sulla seconda si rega sul campo della Mezia formazione calabra partita con grosse ambizioni ma che al momento accusa un gap notevole nei confronti dei rossazzurri la squadra allenata da Ferraro che torna in panchina dopo la squalifica punta a centrare il successo pieno per continuare a tenere a debita distanza gli avversari diretti facendo inevitabilmente lievitare le chance di una promozione che potrebbe arrivare matematicamente con larghissimo anticipo un big match una partita diciamo un po' come tutte le altre affrontiamo la dodicesima giornata di campionato affrontiamo una buona squadra che è la Mezia una squadra ben allenata con giocatori partiti come noi per vincere un campionato con un presidente ambizioso sicuramente però non è che domani il campionato nostro inizia o finisce lì alla Mezia per cui questa è una partita importante la facciamo bene con un ritmo alto sicuramente con la massima dedizione e applicazione e poi troviamo risultato dopo la partita la gara contro le cani cattivi vinta domenica scorsa le ha dato ulteriori conferme le ha dato ulteriori conferme che è un gruppo eccezionale formato da una società che non ci fa mancare niente insieme al direttore tutte le risposte di quello che noi vogliamo tutti quanti noi in testa come staff come allenatore come staff medico i ragazzi lo dimostrano in campo hanno il valore con l'applicazione e di dare sempre più gioia e soddisfazione al nostro pubblico è una cosa eccezionale vantate dieci punti in più in classifica rispetto alla Lamezia ovvio che i Calabri tentino di giocarsi il tutto per tutto quale sarà l'approccio del Catania quello che non si guardano le classifiche perché le classifiche si guardano quando finiscono i campionati è una partita importante che loro sicuramente cercheranno di fare a ritmo alti ma noi siamo pronti a dare il massimo che abbiamo dato ogni domenica questo sicuramente domenica in qualità di allenatore vorrei dare le maglie a tutti quanti però purtroppo per una condizione di formazione di under una condizione di motivazione bisogna fare delle scelte però credo che il Catania siamo una famiglia siamo un gruppo la società è contenta per il nostro operato che abbiamo fatto fino adesso il pubblico di altre soddisfazioni credo che alla fine che il Catania il proprio valore il proprio contributo lo sta dando domenica per domenica con la classifica che abbiamo in questo momento Fulvio Ferraud e Carmela Fagone Regia loro la linea per la pubblicità ci rivedremo subito dopo rieccoci in onda dopo la pubblicità non ci sono altre notizie chiudiamo il giornale con il meteo le previsioni del 20 novembre in Sicilia giornata in cui la protezione civile ha diramato l'allerta gialla per piogge anche a carattere temporalesco sparse più o meno in tutta l'isola principalmente nella zona settentrionale ma anche nella grigia nintino lo vedete dalla cartina i mari saranno molto mossi i venti a tratti forte poi le temperature adesso vedete leggermente più basse sia le minime che le massime bene noi con il meteo ci salutiamo termina qui la seconda edizione di RATG prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV lunedì all'ora 14 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata e buona domenica grazie per la visione